Buonasera ragazzi, Palermo Viterbese 3-3, una partita un pochettino particolare, visto che come potevamo perderla, potevamo pure vincerla allo fine con il colpo di testa di Lucca, il ragazzino che è tanto criticato nella partita, nella scorsa partita, specialmente quella che abbiamo perso contro la Torres, però sono ragazzini che devono cercare di essere in qualche volta incoraggiati, e oggi c'è un po' che si ruba le golle, che potevano essere pure se quel colpo di testa al 94esimo andava dentro, che dire picciote, purtroppo siamo sfortunati, nel senso che se vai su Facebook molta gente dice che noi non siamo concreti, che non cerchiamo di chiudere le partite, però ci sono pure gli avversari, sono discorsi un pochettino fuori senso, quelli che alcuni vogliono fare, vogliono farci capire che il Palermo non sa fare una partita d'attacco, è sbagliato pensarlo a cose, perché se tu devi analizzare tutta la partita, i ragazzi si impegnano, giocano, non è che gli puoi rimpoverere qualche cosa, non gli puoi rimpoverere niente, gli puoi rimpoverere solamente che manca i gol, ma i gol ci sono pure gli avversari, e quando una squadra come la Viterbese se ne viene a Palermo e si chiude in difesa, tu come neanche i 50 contro vinte possono segnare un gol di questo, poi ci mette che la Viterbese ha fatto dei gol di testa veramente camorosi, perché io penso che se lo fanno altre 50 volte due gol così non le fanno più, però intanto la partita è andata così e dobbiamo cercare di, come si dice, di accettare, perché ci sono pure gli avversari, e se uno vince deve essere un team per i meriti nostri, poi certo se ci arrivasse pure un pochettino di fortuna in più al Palermo non sarebbe male, perché come al solito il rigoreino non ce lo danno mai, perché giustamente è così, Palermo non ci possono regalare niente, però nello stesso tempo ci sono delle decisioni abituali un pochettino strane, vedi l'ammunizione di Saraniti, che non ha senso dare un'ammunazione di questa, comunque ripeto la partita poteva essere diversa, specialmente se sentiva quella punizione di Silipo dopo due minuti, però il primo tempo finito 0-0, nel secondo tempo Boscaglia fa uscire Rauti per un po'abile infortunio, poi l'altro chi era Rauti, l'altro giocatore non mi ricordo, comunque entra Fogliano e Lucca, il Palermo un po' si sveglia, il ragazzino Lucca stampa subito il primo gol e il Palermo in vantaggio, poi seguono due gol della Vitebese che se uno li guarda può essere un qualche desintenzione della difesa, però sinceramente hanno avuto questa fortuna di trovare su questi due gol, poi il Palermo è stato bravo a pareggiare e alla fine con Saraniti, poi alla fine subisce il 3-2 e Lucca fa un gol, un altro gol, la porta su 3-3 e niente, potevamo pure vincere, la fa rabbia, che dire, io sono un pochettino incazzato, però che devo fare? Non è che posso fare miracolo, a me è finita il 3-3, accettiamo questo 3-3, ora c'è la prossima gara, non mi ricordo contro chi giochiamo, forse Vibonese mi pare, non mi ricordo, speriamo che l'infortuna degli amici non sia grave, perché gli amici fanno la differenza, è valente, è tezzino adesso, è un pochettino sano metterlo lì, però per metterlo a Boscaglia significa che lui ci può stare, e niente, ora cerchiamo di archiviare questa gara, ora dovremmo essere a pari con tutte le partite, spero sempre in qualche risultato a favore del Palermo, perché ancora la classifica è aperta, il secondo posto secondo me è raggiungibile, non vedo tutto questo abisso, tutto questo distacco, il Palermo ha 16 punti, la seconda mi pare il Bari che aveva 24-26 punti, quindi diciamo che la situazione è lì, quantomeno siamo in zona payoff, per una squadra che viene dalla Serie D, anche se si chiama Palermo, già è un ottimo risultato, però secondo me il campionato ancora per il Palermo deve iniziare, perché quello che ha avuto il Palermo ad inizio stagione, diciamo, lo possono avere anche le altre squadre, quindi andiamo così avanti, con un impegno e con determinazione, perché la squadra si impegna, gioca e non possiamo rimproverare nulla a questi ragazzi. Uomo partita, Lorenzo Lucca, ma anche Saraniti non ha demeritato, negativo, si deve fare attenzione di più agli avversari quando sono in difesa, quindi un pochettino dare una registrata migliore alla difesa del Palermo, però i ragazzi si impegnano, e noi vi vogliamo sempre così, combattivi e con tanta grinta e tanto carattere, e ripeto, sperando che a Genova veniva una bella punta, perché ci fa comodo una punta in più in questa rosa. Ok? Vi saluto ragazzi da Tanino, oggi festeggiamo i 10 anni, potrebbero essere 3 punti, però è un punto, accettiamo, e Catania a merda sempre. Un saluto, e forza Palermo. Ciao ciao.